I New Era sono integratori alimentari a base di biotina e di 12 sali inorganici in tracce, come calcio, ferro, potassio e magnesio. Dal 1923 ad oggi, i New Era vengono prodotti secondo il metodo originale brevettato, che prevede un ciclo di lavorazione di 12 giorni, grazie al quale i componenti, estratti da fonti pregiate, acquisiscono le loro qualità distintive, massima purezza, solubilità immediata. I New Era vengono diluiti in basse concentrazioni in lattosio, l'unico zucchero naturalmente presente nell'organismo, macinati tramite 6 passaggi di triturazione, ognuno della durata di 2 giorni, essiccati per eliminare l'umidità e ottenere un granulo compatto e solubile, una non compressa soffice che si scioglie subito in bocca ed ha un assorbimento ottimale. Ai primi disturbi, New Era, quanto basta per il tuo benessere.